un importante studio sulla ipertensione pensate un po voi è assolutamente fondamentale rilevare queste cose che mi sento di condividere con voi ipertensione i benefici dell'acido glutammico voi dovete sapere che questo aminoacido importantissimo l'acido glutammico si trova soprattutto nelle crucifere e ad esempio nelle verze nel bloccolo verze proprio oggi ho assaggiato un piatto di noi nel veneto lo chiamiamo broetone diverze davvero eccezionale ebbene sono andato a vedere il oltre ai valori che questo nutriente ha l'importanza altre correlazioni col sistema cardiovascolare e ho trovato delle cose davvero interessanti che vi voglio che voglio condividere con voi un aumento del 4,7 2 per cento dell'introito giornaliero di acido glutammico che è contenuto nella verza è correlato a una diminuzione media della pressione sistolica di 1,53 mm di mercurio in buona sostanza approfittare della verza ad esempio di altre crucifere come in questo periodo ci sono molte ma sicuramente la verza molto di più è utile per controllare la pressione arteriosa di poco 1,53 mm di mercurio certo non è moltissimo ma 3 mm di mercurio da una parte 3 mm mercurio dall'altra 2 mm di mercurio dall'abolizione del sale tutte queste cose messe insieme abbassano e controllano la pressione arteriosa ci vuole davvero poco per comprendere questo ed evitare l'abuso o uso di farmaci in maniera impropria quando servono gli antipertensivi servono ma se c'è come dico sempre la possibilità prima di poter fare qualcosa ebbene uno dei tanti provvedimenti è anche questo quindi questa sera tutti quanti come nel veneto chiamiamo bro e ton diverse buona serata